Ciao Federico, sono qua, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, benvenuto. Grazie. Volevo partire dalla fine, nel senso che se non ho controllato male, non è il primo gol all'esordio che fai alla Feralpi Salò, credo che è una squadra che ti porta bene, se non mi ricordo male hai segnato all'esordio in Coppa Italia contro di loro quando vestivi la maglia della Spal, non so se ti risulta. Sì, penso di sì. Sì, però dai, a parte questo ci tenevo a ringraziare prima di tutto la società per l'opportunità, per il fatto di avermi voluto e di averlo percepito fin dall'inizio, i miei compagni che mi hanno accolto subito bene, ne conoscevo molti quindi questo ha facilitato un po' il mio ingresso e poi anche i tifosi per il loro calore perché comunque l'ho percepito da subito e questo penso per un giocatore sia importante. Volevo chiederti cosa spinge un giocatore a 29 anni che ha calcato parecchio la Serie A come palcoscenico a fare questa decisione importante di scendere di categoria e di rimettersi in discussione. Beh sicuramente penso che gli stimoli, l'ambizione siano per un calciatore la cosa più importante, io da quando ho parlato col Palermo ho percepito subito la voglia e quell'ambizione di una società che vuole crescere, che sa che comunque la Serie B è un campionato duro ma che ha la volontà e la voglia di fare un campionato per essere competitivi, per riuscire a centrare la promozione in Serie A. Sappiamo che è dura perché la B è un campionato duro, ci sono tante altre squadre corazzate, però dobbiamo cercare di dare tutto con l'equilibrio perché sappiamo che ci vuole soprattutto quello equilibrio e poi ci vuole un gruppo, un gruppo forte, un gruppo che nel bene e nel male c'è sempre io penso che qui ci siano i presupposti e poi col fatto che dietro ci sia un gruppo come il City Group che da dietro ci guida e che comunque è uno dei gruppi, penso il gruppo più importante al mondo per quanto riguarda il calcio, questo permette comunque alla società di continuare a crescere e di essere sempre ambiziosa e quindi tutti questi fattori mi hanno portato a scegliere Palermo anche se devo ringraziare il Lecce per l'opportunità che mi aveva dato, non è stato facile da un punto di vista emotivo perché comunque mi sono trovato bene lì, però la voglia e il richiamo di Palermo era tanto e la voglia di intraprendere questa avventura Ciao, benvenuto Antonio Rosa, la mia è una semplice curiosità quando stai per affrontare una nuova esperienza in carriera, ti confronti con tuo papà Eusebio e quello che ho l'occasione per chiederti se vi siete sentiti in questa circostanza ti ha dato dei consigli in maniera particolare in vista appunto di questa nuova esperienza con la Maglia Rosa Nero Sì, alla fine delle volte tu giustamente mi fai questa domanda però comunque lui è mio padre quindi vuoi o non vuoi, con lui mi confronto di tutto sul calcio, sulla vita, è una figura di riferimento per me quindi mi sono confrontato con lui, anche lui comunque mi ha detto che ho fatto la scelta giusta perché vengo in una società ambiziosa, lui ci ha giocato contro da giocatore, ci è stato contro da allenatore quindi aveva percepito questo amore, la grandezza di questa piazza quindi lui mi ha dato sicuramente il consiglio di venire qui Ciao, buongiorno Tullio Filippone, Repubblica Buongiorno Buongiorno Che impatto hai avuto? L'impatto è stato incredibile, vorrei che lo descrivessi a parole il gol dopo pochi minuti, tornassi su questo e poi che contributo pensi di poter dare a questo gruppo che appunto hai descritto come compatto di qualità per l'obiettivo che tutta la piazza sogni, grazie Guarda, settimana scorsa è stata una settimana particolare poi come sempre il cambiamento porta con sé stress, viaggi sicuramente ho fatto più viaggi che allenamenti tra visite, venire qui a Palermo quindi avendo un solo allenamento sulle gambe era una partita che, diciamo, c'avevo un po' di incognite, non sapevo quello che sarebbe successo, se entravo o meno però comunque io, quando sono arrivato poi al Barbera sabato prima della partita ho avuto subito sensazioni positive dentro di me, avevo la speranza di poter entrare anche solo per dieci minuti e ti dico è stato emozionante, è stato emozionante perché fare gol subito, comunque dopo cinque minuti, penso era il risorio migliore che potessi desiderare poi fare gol sotto la curva, comunque con uno stadio numeroso, con molta gente, con tanto calore quindi è stata sicuramente una giornata bella da ricordare comunque quel gol ho dedicato ai miei figli, a mia moglie che adesso sono a Lecce e quindi principalmente per loro e anche per tutti i tifosi che comunque mi hanno accolto con grande calore ed entusiasmo poi per quanto riguarda del gruppo, io molti ragazzi li conoscevo già io ho giocato con Ceccaroni, con Mancuso, con Anderson, Stulac conoscevo già Lucioni, con Di Mariano, Insigne quindi tutti i ragazzi mentalizzati, tutti i ragazzi che hanno in mente un obiettivo che è quello di fare un campionato competitivo e questa cosa l'ho percepita fin da subito e non ti nego che il fatto di conoscerli già mi ha permesso comunque di inserirmi e sentirmi già a mio agio dal primo giorno Ciao Federico, Alessandro Arena, giornale di Sicilia, benvenuto io volevo chiederti due cose la prima, quanto è stata dura lasciare una realtà come Lecce in cui comunque eri amatissimo dal tuo pubblico e l'altra era, appunto, tu hai detto che conoscevi già un po' di giocatori dei tuoi nuovi compagni c'è qualcuno che hai sentito nella scorsa settimana quando si è paventata la possibilità di venire al Palermo che ti ha consigliato più o meno cosa avresti trovato qui? Grazie Guarda, io l'anno scorso ho giocato con Pietro Ceccaroni quindi io con lui siamo stati anche in vacanza insieme quest'estate quindi con lui avevo un rapporto anche dove ci frequentavamo al di fuori l'anno scorso quindi ci sentivamo spesso e lui comunque sperava che io venissi a Palermo e mi ha parlato benissimo dell'ambiente, della società e di tutto quanto quindi questo ha anche facilitato il mio arrivo perché comunque ho ricevuto dei feedback super positivi poi per quanto riguarda Lecce sì, è stato difficile perché comunque mi sono trovato bene ho passato un'annata bellissima perché comunque abbiamo raggiunto una salvezza che all'inizio dell'anno scorso quando sono arrivato quasi nessuno ci credeva e ho trovato un popolo caloroso che mi ha voluto bene sin da subito però io penso che per la mia carriera per il mio futuro anche per la mia ambizione per quella anche che era un po' la situazione lì penso che sia la scelta migliore per me e io vengo altrettanto in una piazza calorosa bella una piazza del sud che poi si dice quando vai al sud poi non puoi farne a meno perché è vero io ho sempre giocato al nord l'anno scorso sono stato al sud e per me c'è un altro tipo di vita c'è un modo di vivere la vita una qualità di vita altissima e a me di Palermo mi hanno parlato tutti bene tutti quelli che sono stati qua mi hanno super consigliato Palermo e non vedo l'ora di iniziare comunque ad ambientarmi a trovare casa a conoscere la città a conoscere i posti e a viverla perché è una città come mi hanno detto tutti io ancora la visito bene però noi tutti è una città meravigliosa con gente di cuore e quindi non vedo l'ora Esposito e Faberite Ciao Federico benvenuto Manfredi Esposito Live Sicilia volevo chiederti tu sei considerato uno dei colpi di mercato del Palermo questo può essere uno stimolo per te o magari quando la pressione sarà un po' più alta potrebbe anche crearti delle difficoltà e poi volevo chiederti tu sulla tre quarti puoi giocare in tutti i ruoli dietro la punta a destra o a sinistra dove preferisci giocare? Grazie Guarda sicuramente la pressione fa parte del calcio come giusto che sia poi io quello che posso fare è concentrarmi sull'allenamento sulle partite sul presente cercando di dare sempre il 100% io non sono un fenomeno sono un giocatore normale un buon giocatore se si allena se va se va ogni allenamento al 100% se spinge sempre e quindi io mi concentro sull'allenamento sulla sulla partita settimana per settimana senza stare a pensare poi o alle pressioni a quello che dicono gli altri quello che mi interessa a me è raggiungere un obiettivo di squadra quello che importa è più il noi che l'io quindi io sono concentrato su quello poi per quello che riguarda i ruoli io ho sempre giocato o a sinistra o a destra in un 4-3 in un 4-2-3-1 delle volte anche tre quartista in un 4-3-2-1 4-3-1-2 quindi ho fatto ho fatto molti ruoli mi è capitato in carriera di fare anche il quinto di centrocampo quindi da parte mia c'è la massima disponibilità e la duttilità per fare quello che richiede il mister per quello che richiede poi il bene del Palermo Benvenuto Cettina Pellitteri Azzurra News tu hai già giocato in club molto importanti cosa pensi ti può dare il Palermo e che contributo tu puoi dare ai tuoi compagni più giovani e se speri di mettere radici qui grazie la speranza è sempre quella di trovarsi bene di passare passare molto tempo in una squadra poi le previsioni non si possono fare siamo all'inizio quello che voglio adesso è quello di di fare una una bella annata di raggiungere un obiettivo di squadra che è quella la cosa più importante di aiutare anche i più giovani ho visto che ci sono molti ragazzi giovani come Vasic Lund molti altri io comunque sono ragazzi ho 29 anni qualcuno mi dice che sono grande sono nell'età di mezzo però io mi sento mi sento un ragazzo come tutti nel senso mi approccio così non voglio far pesare il fatto che ho potuto giocare degli anni in Serie A quello non non mi interessa io sono un ragazzo e comunque guarda quello che ho adesso io adesso voglio principalmente aiutare la squadra in quelle che sono poi le mie qualità quello che posso dare umanamente all'interno della squadra per far sì che la squadra possa raggiungere quello che è l'obiettivo perché alla fine poi passa tutto attraverso un obiettivo di squadra quella è la cosa più importante l'anno scorso è stato così con l'Ecce è stato così con l'Empoli quando poi raggiungi quegli obiettivi diventa tutto più bello e ne risalta anche il singolo Buongiorno Buongiorno Ciao Federico Paolo Vennigio Buongiorno in queste prime partite le squadre che secondo te possono competere per gli alti livelli e qual è la qualità alla fine che fa vincere il campionato l'equilibrio la capacità di resistere anche ai momenti negativi l'entusiasmo che si coltiva in alcune piazze ecco quale secondo te quel quid in più che può far vincere una squadra come ho detto prima il campionato di B è un campionato duro un campionato duro livellato equilibrato dove comunque anche le squadre che vengono dalla Serie C sono squadre che hanno entusiasmo squadre che mettono in difficoltà delle volte squadre anche che riescono a fare il doppio salto quindi dimostra questo l'equilibrio di questo campionato io penso poi quelle che possono essere favorite sono come prime tre sono le squadre che sono retrocesse dalla Serie A che per organico penso è anche forza economica sono quelle che sulla carta sono le più forti poi ci sono ci sono altre squadre ci siamo anche noi ci siamo ci sono le squadre che possono essere visto che il Catanzaro è partito bene il Modena è partito bene quindi è difficile fare previsioni però penso che noi siamo una squadra comunque che vuole essere competitiva per arrivare fino alla fine per essere competitiva per arrivare in Serie A però sappiamo che è un campionato duro e dove soprattutto io penso ci voglia equilibrio io onestamente sono un giocatore che principalmente ha giocato sempre per squadre che si dovevano salvare in Serie A e anche quando ero stato in Serie B però qui abbiamo giocatori che che hanno vinto campionati penso a Lucioni Ceccaroni di Mariano Insigne senza traccio con anche Anderson Stulac quindi il fatto anche di avere questi giocatori aiuta anche a me che sì ho giocato in Serie A però mi piacerebbe anche vincere un campionato di B e comunque spero di farlo con Palermo però principalmente quello che ci vuole penso sia l'equilibrio perché poi anche quando c'è questa piazza che è una piazza passionale che c'è molto entusiasmo bisogna cavalcarlo però sempre con quella lucidità e poi anche nelle difficoltà perché come tutte le annate ci saranno anche delle difficoltà spero il meno possibile mantenere un equilibrio mantenere una coesione che penso sia importante per poi raggiungere un obiettivo Vitale a chiudere Sì Federico volevo ritornare al concetto del gruppo e all'assist di Soleri per te volevo capire se tu l'aspettavi per il gol Gli devo una cena gli ho detto gli devo una cena perché gli ho detto cavolo sai che il nuovo attaccante su dieci avrebbero tirato e non me l'aspettavo che me la ridasse mi ha fatto un regalo lui scherzando mi ha detto dai devo iniziare subito bene col suo accento romano però no è stato carino apprezzato e veramente gli devo offrire una cena glielo ho già detto adesso che questa settimana o la prossima dove vuole lui gli offrire una cena e poi in ultimo dove pensi che puoi contribuire di più in termini di assist o di gol non lo so non lo so spero tutte e due non voglio darmi degli obiettivi nel senso poi me li ritengo per me io quello che voglio è dare il 100% per il Palermo come ho fatto sempre per ogni squadra dove sono stato con i miei pregi e i miei difetti poi spero giustamente di far saltare più i miei pregi di fare una bella annata però quello che voglio dire che io darò sempre il 100% perché amo il calcio perché amo questo mestiere per rispetto dei tifosi rispetto della società e dei miei compagni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti